Buongiorno a tutti. A differenza dallo scorso anno, quest'anno non possiamo incontrarci personalmente. Eppure è molto utile che ci diciamo qualche cosa in riferimento al vostro servizio in occasione della vostra giornata nella festa di San Francesco di Sal. Non ho dimenticato cosa vi ho detto l'anno scorso, che sintetizzo così. Cercate di dare delle notizie buone, a preferenza di quelle che agitano le persone. Siamo in un momento di grande crisi per l'epidemia che è ancora in corso. La gente ha bisogno di essere educata, dei comportamenti corretti, ma è bene che voi sottolineate anche tutto quello che di positivo sta succedendo. Siamo in mezzo a tante difficoltà, a tanti lutti, a tanti momenti di inquietudine. eppure stanno nascendo degli episodi di bontà, di disponibilità al servizio, di generosità, di accoglienza e di vera fraternità. Per questo noi dobbiamo rallegrarci, promuovendo allora tutto il bene che c'è, tutto il bene possibile e lasciando un po' perdere tante problematiche che inquietano e che mettono solo disperazione o scoraggiamento alla gente. La gente in questo momento ha bisogno di consolazione e di apertura alla speranza. Allora diamoci una mano tutti insieme, sosteniamo il bene che c'è, promuoviamolo, generando una forza viva che porta alla speranza e lascia anche un po' commossa tutte le persone che incontriamo.